Ciao, mi chiamo Björn. Questo è il mio video giorno 60 su Edwan Challenge. Oggi voglio parlare come ho imparato italiano in passato ma anche in questa sfida. Ho iniziato a studiare italiano il marzo 2015. All'inizio ho usato Duolingo, un sito gratuito dove tu imparerai il vocabolario di base e anche come coniugare dei verbi. Duolingo ti porterà al livello di A2 oppure B1. Il mio livello italiano è A2+, ma spero di arrivare a B1 questa estate. A livello di B1 è possibile avere una conversazione normale in italiano senza problemi. Nella primavera del 2015 ho anche usato il corso audio di Michelle Thomas. Questo corso è veramente buono. Ti dà una base per parlare in italiano. In giugno dello stesso anno 2015 ho fatto un viaggio a Venezia per prendere un corso in italiano a una scuola privata che è detto Istituto Venezia. Qui in questa scuola ho studiato per quattro ore ogni sera lunedì a venerdì. I giorni e i fine settimana erano tempo libero. Con l'aiuto della scuola avevo alloggio privato. Qui vedi la mia stanza. La scuola e anche l'appartamento erano nel centro di Venezia. Dopo questo corso di due settimane d'estate ho continuato a studiare l'italiano da solo con Duolingo. In ottobre quell'anno sono ritornato a Venezia per un altro corso ma questa volta solo per una settimana. Il prossimo grande passo per me è stato di provare il sito italki. Da novembre 2015 a gennaio 2016 avevo 20 lezioni con due insegnanti bravi con Skype da un'ora per volta. Era molto utile per me per praticare di parlare italiano. Questa attività su italki è stata una preparazione perché avevo trovato una scuola a Oslo che offre corsi in italiano. In scuola di italiano ho iniziato al livello 4 che è all'inizio del livello A2. Qui studio italiano per due ore ogni martedì sera. Ogni livello in questa scuola richiede un semestre. Nell'autunno del 2016 ho preso il livello 5 e adesso il primo maggio 2017 sto prendendo livello 6. Ma questa primavera ho fatto qualcosa di nuovo. Sono entrato in Edwan Challenge. Cos'è questo? Edwan Challenge è una sfida per imparare italiano costantemente per 90 giorni. Alla fine devo avere una conversazione con un nativo italiano per 15 minuti di più in un video pubblicato su YouTube. Durante questo corso ci siamo sfidati in modo diversi per uscire dalla nostra zona di confort. Gli altri studenti sono appassionati per imparare una nuova lingua e ci motiviamo. Durante questo Edwan Challenge ho probabilmente avuto una lezione di Skype almeno tre volte a settimana. Ancora più alla fine. Questa sfida mi ha fatto studiare più duramente e mi ha fatto superare la paura di parlare italiano. Il mio corso alla scuola di italiano termina il 16 maggio. Il giorno dopo viaggio in Italia per sei giorni per visitare alcuni amici. E poi ho il mio giorno 90 video il 27 maggio. Gad respectful altro. Mi sentiate spesso la mia mandatura di lampelare Spielberg. ってviste questa lavanda oltre? 좀 sorpo di РоссIQ. Ockyou e l'u匙 telegram.